Se l'alzata del panno apre ufficialmente festeggiamenti religiosi per il santo patrono della città di Salerno ad un mese dal 21 settembre, la settimana che si apre oggi inaugura ufficialmente anche il ritorno all'operatività per la macchina civile ed amministrativa del comune che, dopo la pausa ferragostana, si rimette in moto per definire, come ormai è tradizione, anche un piano di interventi da presentare alla città in occasione dei festeggiamenti per il patrono del comune capoluogo. Ed è già al lavoro in queste ore l'assessore all'urbanistica del comune di Salerno, Mimmo De Maio, che, a margine della cerimonia commemorativa che si è svolta questa mattina a Torrione, ha ricordato i principali interventi sui quali il comune di Salerno è impegnato. In primo luogo la riqualificazione del mercato di via Piave, poi il bando per la bretella di Rione Petrosino e subito dopo la ristrutturazione del corso Vittorio Emanuele, la scadenza del bando è fissata al prossimo 19 settembre e per finire in bellezza il ripascimento della costa tra Torri Angelare e il polo nautico di Salerno per un valore di oltre 7 milioni di euro. Questo bando si chiuderà il 20 settembre. È stata bandita una gara per la realizzazione di un collegamento viario a servizio non solo di Rione Petrosino ma di tutta la mobilità della zona di via Irno che è un pezzo di un sistema di mobilità più complessivo che si completa con l'intervento realizzato nell'ambito del bando delle periferie che dal passaggio a livello di via Fratelli Magnone collegherà abitato di Brignano, poi questo pezzo che è stato bandito qualche giorno fa prima del ponte delle ferie e infine si collegherà con un asse viario che è in corso di progettazione esecutiva da parte di RFI quale sostituzione della chiusura del passaggio a livello. Quindi questo sistema sicuramente garantirà un significativo miglioramento del tutto il sistema della mobilità della zona di via Irno. Via Piave è un altro dei programmi che particolarmente ha curato l'ufficio per le attività produttive, la nona per intenderci, finalizzato alla sistemazione dell'area mercatale di via Piave che sarà finalmente dotata di quei servizi necessari, minimi affinché l'attività possa essere svolta del miglior modo possibile.